Ragazzi ben ritrovati su Uncharted e ci eravamo fermati dal capitolo 2 che dobbiamo ancora cominciare. Allora nel capitolo prima eravamo coinvolti in un risone gigante, ci hanno portati in isolamento e siamo usciti eccoci qui, non so dove ci stiano portando, ma che cazzo spingi? C'è una roba se ti spingo io? Pezzo di merda, è un po' più veloce a seguire le scale che lo stiamo perdendo, è una bella prigione, piacere, si mi rispondi vaffanculo, tutti c'è nessuno di amichevolo in questo gioco, perchè? Perchè? Ho un po' di sole finalmente, che cazzo sembravo di Dark Souls laggiù? E' un'altra resa? Eh non sarebbe male, ma non possono mettere i sottotitoli con traduzione, perchè non capisco un cazzo dello spagnolo. Ma dov'è che dobbiamo andare? E cammina, cammina, dai, entro qui e dunque? Ma chi c'era? Credo abbia detto che è una sorpresa. Io no. Che è una sorpresa? Ma che cavolo c'è? Che cavolo? Ah è quello... è quello la che abbiamo bastonato o cosa? Ma che cavolo vuoi? Oh qua tutti incazzosi! Cioè se avessi un manganello, altro che... che cavolo dai, voglio aiutarlo! Ma vaffanculo! Bastare! Dove mi stai portando? Eh quello che gli sto chiedendo da mezz'ora! Di qua? No! Qua ti spingono, ti mettono in manette e ti pestano e poi? Come non di qua? E dove? Eh di io ce l'ho appena ma... si capisce un cazzo! Adesso un tunnel giù, giù, sospettirti di cosa? Non c'è mi... Beh se è un direttore che fa schifo probabilmente non sei mai stato in una prigione che è una prigione. Potrebbe essere che sei di qua? Oh no! Di qua dove? Dov'è? Di qua il razio? Di qua? No no, di qua sbagliato. Di qua credo. Sì. Allora ora però eh. Dai! Di qua. Ora posso uscire? Posso? Ho ancora il segno del pugno sull'occhio. Ah però... Dove? Siamo arrivati insieme a dove? Voglio una fetta. Di che? Di torta? Di culo? Di cosa? Se non trovo un cazzo voglio una fetta di un cazzo? Ma cosa vuol dire gringos? Cosa vuol dire? Ma non abbastanza. Ti han detto di non aprila. E mi hanno anche detto di non accettare mazzette. può portare qui gente. Ah non una pirla ma è una mazzetta. Però. Ma eccoci qui. D'accordo ma stai attento. Ha 300 anni. Io ho 300 anni? Ho la lettera 300 anni. Ero un membro della ciurma del capitano Henry Avery. Tu sai chi è? Era un pirata. No. Beh fin qua ci siamo. Un pirata che ha fatto il più grande colpo della storia. E l'ha fatta franca. Ah però che bastardo. Più di 400 milioni di dollari in oro e gioielli. Come hanno fatto a calcolare in dollari? Come hanno fatto? Beh se fosse una nave fatta di oro, gioielli e cazzi vari può dare sì che costi 400 milioni. Spagnola ecco. Spero che un giorno tu possa riuscire a entrare in questo luogo infernale. Quale questo luogo? Quale? E' il paradiso d'esta minchia. Paradiso fiscale. Ti c'avano tutto altro che. La ricchezza del paradiso. Ah santo. E' una metafora. No no no. Tu e gli altri non avete pagato per entrare in quel luogo infernale solo per una metafora. Ma quale luogo infernale? Non sto capendo. E' un cazzo. Mi ritrovo. Un minuto dopo mi ritrovo in una risa. Che sta succedendo? Vuoi fare un accordo con lei? Ora potresti... E' chiesto Raffae. Ora i fu... come si visse. Sto capendo una sega. La lettera? Oh. Por favor. Oh finalmente. Scalando. O forse preferisci farlo tu. Visto che vuoi una vita. Cerca di non crepare. Si. Se non ti faccio crepare io. Guardate ciò che ti ho chiesto. Si. Lo nascuta laggiù. Sotto al tavolo da lavoro. Tavolo tavolo tavolo. Cerca un tavolo. Cerca un tavolo da lavoro. Cerca un tavolo da lavoro. Cerca un tavolo da lavoro. Ritagliamo. Eh vabbè non ho capito niente scusa. Impegnare la sorpresa così. Sali di qua di nuovo. Ok scaliamo. Ah dobbiamo saltare. Ecco cosa. Eh io stavo andando giù come un demente. Eh non è passeggiata. Mi è passeggiata su un carbone. La solita battuta. Ah questo tavolo da lavoro. Un fosso. Non andare giù. Non andare giù. Non andare giù. Ecco qui. Dovrebbe. Ah non è un tavolo da. Ma che cazzo. Buttalo giù. Buttalo giù. No. Ma dovevo buttarlo questo. Ah qui qui. Ho capito. Ho capito. Su. Fatica. Fatica. Basta. E cerchiamo se c'è qualcosa. Ecco qui quello che cercavo. Una corda. C'è un rampino ok. E vorrei anche una bottiglia di quel che è. Cerchiamo se ci sono eventuali tesori. Non credo ci si. Oh no. Oh si. Non è consigliabile tornare giù. Quindi andiamo. E ci sia un tesoro qui sotto? Vai c'è uno scavaco. No no. Vai giù. Devi andare giù. Giù devi andare. Ecco qui. Per me c'è un tesoro. Ma cosa avevo detto? Cosa avevo detto? E cosa danazione è? Oh. Premo un tesoro. Benissimo. Ottieni in pagina di diario tesori. Ok. L3. Ok. Ecco la cella. È un po' lontana. Sì. Con la corda? Sì. Sempre che non è una corda di 20.000 miliardi di metri. È un'opzione scartata. Beh la corda serviva in ogni modo. Si parte. E adesso si spiazzica sul... La corda è scomparsa. Ah non la colo qui. Di nuovo. Tira sto rambino. Vai ti prego. Stavo cadendo come un miserabile. Più là. Più là. Più là. Spostati. Salta su. Salta su. Cazzo. Ok. Ora dobbiamo saltare lì. Oh. Oh no. Ah no no. Qua la salita. Per il rampino. Quindi. Io proverei ad andare giù. No. Aspetta. No. Non è. Cadiamo. Cadiamo. Pensarmi. Quello che stavo pensando. Non lo stavo scherzando. Vai un po' più. L'ho mancato di niente. L'ho mancato di niente. Ok. Rifacciamo da qua. Ah. Da qui. Cioè. Sono abituato. Sono abituato. A checkpoint. Lontanissimi io. Cioè. Se uno ha giocato almeno una volta. Dark Souls. Che c'è il primo. Che c'è il secondo. Che c'è il terzo. Che no. No. È abituato a cominciare da. Tipo inizio gioco. C'è qualcosa qui. No. No. Si. No. Non c'è niente. Sempre più in alto. Eh. Salto della fede. Salta al taire. Salta. Oh. Si. Moriamo. Si. Moriamo. Stavo calcolando se moriamo o non moriamo. Si. Moriamo. Giù. Sempre. Pensavo fosse una specie di pavimento invece. Ok. Non so dove cazzo andare. Oh. Non so dove andare. Veramente. Dove cazzo vado? Che dove. Che dovessi andare veramente? O cosa? O di qua? No. Di qua no. Dove devo andare? Dove devo? Qui. Qui non c'è niente. Niente. Oh. Oh. Un piccolo. Ah. Su. Eh. Però è servito qualcosa andare là. Ok. In equilibrio. Salta. Verna mura. Tu. Salta più alta. Quante ce ne so. Chi ha segnato quel gesso qui? Chi è passato? Jack lo squattatore? Coglie le artiglie. O cosa? Si è goduto un bel panorama. Potevano metterli nel... Aspetta un secondo che voglio dire se c'è qualcosa. Giù. Giù. Un po' più. Salto. Cioè. Fai. Giù. Un altro po'. Ma porca però. Io sapevo io. Non arrampica. Salta di là. Salta di là. Salta di là. Ma. Ma perché è così difficile? Eh. Fa arrampiccate. Si arrampica sugli spigoli più improbabili. E non salta da mezzo metro. Proprio. Come il gioco. Come il gioco comanda. Deve farlo. Non può. Non può spingersi oltre. Ma perché? Ma perché così spigare? Cazzo. Tutte le scorciatoie devono spaccarsi. E' una legge. E' una legge. Povero. E dove vado ora? Ah. Si ho capito. Capito. Su. Ma si va sempre più su qua. Ma potevano metterli in una cella un po' più basso. Ok. Scendi adesso. Si. Di. Sì. Non so se devo andare su. Sulla forca. Per. Dai. Di qua. Sì. Io non so se andare. Allora lì ci sono appena stato. Oh c'è un tesoro lì sotto. Tanto vale andare a controllare. Avevo detto tanto vale andare a controllare. Avevo. Ti prego tieniti. Prego tieniti. Tieniti. Giù. Un po' di qua. Un po' di qua. Un po' di qua. Non c'è un niente. Non c'è niente. Che cazzo. Dovevo sospettarlo. Ma questo è uno dei giochi che nasconde i pizzeretti. Dopo. Cioè. Tu puoi sparare all'affondo finché vuoi. Ma ti spuggerà sempre qualcosa. Ok. E adesso. Ehm. Ci è arrivato vicino. Verò eh? Allora. Buio. 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 Un po' di luce. Ah. Un altro rampino. Non è che si spacca. E usa l'evecchiera da fune. E usa l'evecchiera da fune. E usa l'evecchiera da fune. Chi c'è? Ah. Tieni per muto. Ah. Dovevi spaccarlo. Ehi dai. Spaccati. Ah. Dove va? No. No. Ma per fortuna non sono morto. Perché poi se vai fuori dal gioco anche se cadi da mezzo metro muori. Cos'è? Una pagina del diario molto leggi. Non capisco. E fare un gioco ai compagni. Gesto gratuito. Ma che. Mmm. Scusate io leggo veloce. Quindi questa mattina durante l'impiccazione. La dire. Corrompermi. Blacerando. Ma si. Non me ne fai un cazzo. Vi l'ho mandato. Ok. Riponi. Ma perché non puoi prenderla e mettertela in tasca? Cosa c'è qua sotto? Niente. Che bello. Neanche un tesoro. Qui ancora meno. Salta su ti prego. E' incredibile che questo posto stia ancora suo. Ma asco. Ma che cazzo. Aspetta un secondo. Ma non dovevo. Ecco. Ah. Bene. Dovevo saldare comunque. Bene. Ora usciamo di nuovo. So. Mi diverto da matti. Bene. Ora che tornassi in anzartela con. Con tanto di cazzo taggine. Ma guarda il panorama. No. Sto qua mezz'ora guardare il panorama io eh. Ma la grafica non è contestabile. Assolutamente. Porco. Quello qua è un tesoro? Oh. Niente. Cosa ti stai perdendo. E ti stai perdendo. Sai le vertigine con sta roba? Viene fuori un. Casi. Che ci sia qualcosa di là. Cosa? Niente. Bene. Male. Questa è la cella però. Cella. 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 di numeri messi a caso. Poi ci sono altre numeri messi a caso. Cosa sono là? Stramamente numeri messi a caso. Questa è la nacella fatta di numeri messi a caso. Come fai a capire che il sole e la luna? Cella. Un attimo. Ah. Simula. Premici. Premi. Guarda. Appunti. Appunti. Non capisco. Non capisco. Gi. Gi. Gira. Alla mano che si è piegata in un modo proprio. Non credo sia. Non credo sia possibile girare così la mano. Piega. Ora ci siamo. Ah. Ok. Un simbolo dello zodiaco. Il sagittario. Il segno dello scopo. Mmm. Interessante come cosa. Di qua non c'è niente. Quindi. Ah. Enigma. Odio gli enigmi. Ma li amo a volte. Se quando li capisci va bene. Quando li odi... Oh cazzo. Sapevo io che c'era un... Allora. Ah. Capito. Guardiamo un po' gli appunti. Che non ho visto bene. Allora. Un simbolo comunista. Una M fatta male. E un sole e una luna. Ok. Dove è il simbolo comunista? Non è quello. Oh sì. Una M fatta male. Come ha fatto ad arrivare la sua a scrivere le cose? Eh. Questo è il problema. Ariete. Cosa qui? No. Ehm. X. X. Bene. X. Vale X. Vale X. Vale X. X. Sto cercando la mamma da X. Eccola qui. Come niente. Cazzo. L'altro la M fatta male da due. 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 Eccolo qua. E due in numeri romani. No. Porca puttana. Non capisco niente. Il segno dello scorpione. E due in numeri romani. Ah. Lo scorpione. No. Una M fatta male. Sagittario. Dieci in numeri. Sì. Ma vai a cercare. L'ho già trovato. Ah. Forse ho capito. No. Non ho capito. Un po' più. Ecco. Ecco. Ma lo sapevo. Che cazzo. Poi sono mezz'ora. A capirlo. Ecco. Un crocifisso. Fuori da qui. Satana. Mori da qui. Per un oro. Osservate Gesù. Un crocifisso. Giratelo. Latino. Non lo capisco. Purtroppo. Cos'è? Ligna. Factis. Re. Re. C. P. Cioè. Cioè. Non lo tienri. Pogliene un'altra. Quante robe ho messo qua. Direi che è fatta. Bene. Ora di tornare. Ok. Usciamo. Come? Questo è il tuo... Cosa? Ah. Dovevo cercare bisogno di guardarmi la cella come ho fatto a portarlo su? con una scala magari e sapevo io, buio ancora buio, sembra buio tutto buio ok andiamo giù o su, dipende da cos'è che devo fare? giuuu quanto è lunga sta corda oh e adesso ti molli giù oh, mollati po 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 poooo pe murderer ok, no, great ci sono andato a caso guà piano quà perchè qua niente deve spaccarsi, deve sempre spaccarsi tutto, perchè? di qua un salto più squilibrato di quello proprio era proprio di qua neanche di qua? no, ah devo mollarmi e dov'è che mi lancio? la cazzo qua è tutto un... cazzo un baffon che ci sia un tesoro lì? tanto vuole provare? ah non puoi peccato sarebbe stato bello no neanche... di qua no ecco esci e... non potevano farlo in legno no? tutte eroginite non si capisce di spalla farlo con la sinistra no? c'è cambiare spalla lì c'è pargas eccolo lì voglio una fetta gli dai una fetta di crocivisso vai sopra lì se per un momento ho pensato che cadesse nel vuoto anche se a volte fa salti disumani no sono salti indirrobabili no 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 come facevi a non saltare... oh ecco qui dove dannazione salto ce l'ho fatta ecco ma la corda ma... cioè si rigenera la corda ogni volta da... su eh... no andiamo in alto che strano o dobbiamo andare giù? ora si ragione ah no siamo in un altro posto ecco trappati ti prego su su ah qui eh vabbè io cerco se c'è un tesoro non me ne frega non c'è niente non mi sa che hanno saltati tipo 20 oh oh siamo trovati non te lo dico allora non te lo dico si sei hai cercato nel punto giusto? beh deve essermi sfuggito qualcosa nella lettera forse c'era un'altra torre che è crollata secoli fa hm però sai dire bugie eh hai una mappa di questo posto? sai una piantina? ehm può darsi c'è una pila di vecchi documenti ok bene bene tu dagli un'occhiata tu dagli un'occhiata io non guardo un cazzo e io ne parlo con Sam è l'esperto di ebri e forse può trovare un senso a questa storia e dove va Sam ok si guarderò tra le case girati girati ah no pensavo di ciavasse il coso tormincella vengo per me che venga fuori nel torisone per me spero e per me che venga fuori nel torisone dai gringo se ti becco ancora a fare appugni vai nella buca una settimana manca due torno a casa torno a casa quasi quanto vabbè vabbè non sei così fisso c'è mi sono tenuto in tasca vabbè posso dire suerte di principiante vabbè hijo da putt vabbè 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 ma se sei abituato perché io ancora segno avevi ragione ahahah no avevamo ragione non resta che cercare Raif chi è sto Raif andiamo l'hai detto anche tu noi l'abbiamo fatto tu e io e adesso che riccone di merda vuole unirsi da quanto ci provavamo eh avevamo qualche pista non è vero ok neanche una e ti piaccia uno senza Raif e senza Vargas non saremmo ingiati riguardo a Vargas c'è un problema come non saremmo l'entratti e sto qua a Raif si si l'ha fatto eh dopo che ha letto la lettera e cosa ha scoperto e ne vuole una fetta merda si e non dargliela si scopre questa storia si stiamo tutto io con Vargas tranquillo ok ci sono cose più importanti a cui pensare d'accordo cerchiamo un posto un po' più appartato si c'è tipo beh qui in mezzo dove ti sentono tutti poi avrò il posto più sicuro che si possa essere davvero io non avrei scelto uno migliore qui è tutto tranquillo ok allora cosa abbiamo dove se l'ha messo? dove se l'ha messo? non pensate male stai attento ok stai attento ok cazzo come cavo dovrebbe perdere tempo a nascondere un banale crocifisso non è un crocifisso tecnicamente un crocifisso rappresenta Gesù ma dai come no? manca la corona di spine è legato alla croce ma se non è Gesù allora legge descrizione che sia con? come si chiama? Harry Avery digna factis rechipimus riceviamo San Pietro riceviamo il giusto per la nostra reazione esatti mi stupisci non lo so non lo so ma va è salatissima si ladro pentito chi? ah cordii quello la ah ok durante la crocifissione Gesù venne messo tra i due ladroni ok il primo prese il giusto il secondo questo qui lui si pentì e accettò il suo testigo serenamente e Gesù lo condusse in paradiso il ladro pentito piace vincere facile? si che c'è? oh hai capito? c'è chi? esiste una cattedrale di San Dism in Scozia andiamo? ultimo avvistamento di Evarifo in Scozia non può essere una coincidenza no ma è tutto tutto quadro però sapete avevo dei dubbi su quei due ah cerchiamo Vargas dobbiamo andarcene no no cerchiamo cosa? ma andiamo lasciamo qua oh che palle ancora sto qua ma indovinare è il tipo con cui hai fatto appunto? ma si non sapevo avesse tanti amici e dici che noi abbiamo sterminato ok ma se le coglioni fai uno contro uno ma si vedeva che era un cartone finto dai oh cazzo è con te che ho fatto pugni eh oh io proprio come cazzo? ah è vero quadrato non mi sono dimenticato non ci attacca dai ha fatto uno scatto disumano uno due adesso cerchiamo questo qua cosa va da dietro? da dietro ahia due per un oh c'è come non è finita due mettiamo giù questo anche quello è star buttalo giù oh ma da ancora ma lo trolla sempre ma non cazzo voglio voglio anche dare le botte? eh? lascia mi strengo pelato del ticca no è rosato cioè ma dai ma questo qua è così subito ogni volta testate al muro insomma dopo due o tre volte lo capisci manche uno però due però sto qui eh oh baci te nel coso baci te oh che caro ancora ancora in piedi eh eh si ma le altre ma le altre due che cazzo c'era sto qua un colte e un altro e un altro e un altro dai l'ultimo per sicurezza però si cagano in mano ora eh che se sto eh dame porca droia porca droia ti ha sgamato ti ha sgamato ti ha sgamato ti ha sgamato adesso ne prendi non capisco sono spagnolo perchè che cazzo basta quello spagnolo non lo capisco spagnolo argentino spagnardino quel cavolo che è non lo capisco lo faccio io oh non ho trovato niente sarai in un'altra torre e quello cos'è scusa e niente ehi ho un'educazione cattolica e ho sempre una ho un rito ehi 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 se adesso sparo a te si, così tanto stua mamma puttana il 50% ma anche il... io l'avrei dato il 5% no 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 mi sembra equo no ma neanche il 5% era equo cazzo non fa una segra tutto giorno sai che fa? sta qua, guardia, basta basta non me l'aspettavo eh non me l'aspettavo proprio ti ha dato di volta il cervello vuoi forse scoprirlo? vuoi forse scoprirlo? oooh questo era parte del piano voi seguitemi eh non mi aspettavo proprio la coltellace però eh ma... sinceramente ok ora dobbiamo scappare eh ma basta scappare da qua eh ecco una vo... ecco non lo so come vi... come che cazzo... e va da qua che parte dove dai... ah qui 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 ok qui dai dai ti da fusto del mare ma che cazzo ci siamo trovati? va fuori va fuori ma che mったi che cazzo... ah no i mi placi qua oh dai stiti ti sembrano fatti apposta per la fuga dai giu 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 cavallina altre cavallina dai dai che cazzo certo che hanno una mira da schifo però eh cioè ammettiamo hanno una mira che che però ammettiamo una mira da schifo come non si apre? tiragli un cartone su 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 e dai di qua di qua di qua ma dai ma qua tutti i vicoli ciechi che cazzo dai su 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 dai che ci sgama ma potete che ci sono già sgammati ma perché bravo si non può stare non lasciamo ne andare e qualche proiettile l'abbiamo già preso cosa stai facendo? dai che ce li abbiamo attaccati al culo dai porca p***a ma perchè la sfida dove caramela io e non loro ecco le guardie fanno a p***a o sono detenute? ok 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 ma giusto ci sembra una sfida dove prenderla io non ho già ecco refl abbiamo perso che cavolo dove andiamo? su come non salti su? sono qui aiutami a spingere 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 veloce quanto va a pesare un cassone si vede un mastardo andiamo 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 dove finisce sto condotto? che magari si prende la malicolata e e oh cappettana i momenti ci sgammavano i momenti ci sgammavano e ci avrà sgammato 50 guarda tipo no 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 perchè non va di qua? dove devo andare oh? ah di qua di qua di qua andiamo su su stavolta non vado io per ultimo eh dai 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 su ignoraci ma che? dai cosa stiamo facendo? non manca sto farò dove dobbiamo andare? basta che non sia pronta di qua ma questa è la stessa non fermarti vai non ferma tu e chi si ferma? perchè dovrei fermarmi? ma ecco perchè non vado nell'ultimo ci sono perchè aveva una pisa ah giusto ti prendo io pensavo pensavo lo mancazzi e cazzo ti ho preso ti ho preso Sam no no resisti no resisti no tiralo su tiralo su tiralo su tiralo su porca no non è morto vero? è ancora lì sotto no è spacciato forza la barca è oltre quel muro no non è morto non posso lasciarlo qui Nate tuo fratello è morto vieni con me o morirai anche tu no come ti fa? senti dovevo andare a prenderlo dobbiamo andare a prenderlo come vuoi scappare? Sam oddio no no merda ma non è morto non credo che sia morto e dai ma perchè devo perchè mi mi carpo sempre in questi e non ci vedo un cavolo che sia stata una finta? come quindici anni dopo eh quindici anni dopo quindici anni dopo il casino che è successo? ma dove cazzo? ah sono sub ragazzi è stato davvero bello come gioco fino adesso entusiasmante ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao